Il sogno di Monsignor Enzo Bonetti è diventato realtà. La costruzione della sede della Domus Famiglia è ultimata. La fondazione Famiglia Dono Grande, con l'inaugurazione di questa struttura, ora gode di una residenza studiata per ospitare famiglie e coppie nel percorso di formazione per essere portatrici di valori e di fede direttamente nelle famiglie. Sì, l'obiettivo raggiunto possiamo dire soltanto una piccola meta, quella di avere un luogo concreto per la fondazione Famiglia Dono Grande, per l'associazione Servi Famiglie, perché l'obiettivo concreto è quello di dare una mano, aiutare tutte quelle famiglie che in Italia cercano di cavare fuori il meglio di sé. Desiderano un nutrimento, desiderano una proposta di ideale di vita, desiderano conoscere quelle possibilità spirituali che conducano veramente l'uomo e la donna a ritrovare quella bellezza che Dio ha posto nel loro cuore fin dall'inizio. La Domus Famiglia è sorgi in località bionde del comune di Salezzole, amministrazione che ha una particolare vocazione verso la famiglia. Il nostro comune da tanto tempo porta avanti quelle che sono le politiche familiari intese come aiuto, aiuto alla famiglia e ai figli. Ricordo in maniera abbastanza presente i due premi che il comune di Salezzole ha preso come difensore della famiglia al FIUGI Family Festival, una manifestazione a livello nazionale. La Fondazione Famiglia Donno Grande con questa realizzazione offre mille e più motivi di occasioni per riflettere sulla famiglia vera, quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Sì, questo è un luogo in cui le famiglie possono trovare rifugio, anzi il luogo in cui le famiglie possono riflettere, elaborare la loro identità vocazionale che è quello dell'essere sposi in Cristo, genitori in Cristo, famiglia cristiana costituita nel Signore. Quindi il luogo è una cosa, la realtà è ben superiore, avere un progetto molto chiaro, dinamico sulla famiglia credo che sia una bella ispirazione dello spirito.